Una tragedia ha squassato il cuore dell'Italia con la dolorosa perdita di due giovani nel suggestivo scenario del lago di Como. Una coppia, nel tentativo di vivere una serata romantica, ha perso la vita tragicamente annegando nelle acque gelide dopo aver sfondato un parapetto e precipitato. È un evento che ha colpito profondamente il paese, e oggi cercheremo di svelare i primi dettagli di questa tragica vicenda. Prima di proseguire, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati. Le operazioni di recupero dei corpi, condotte con grande impegno dai sommuzzatori, hanno richiesto ore di sforzi intensi. Nonostante il coraggio dei soccorritori, il personale medico ha dovuto constatare la drammatica perdita di questa coppia, il cui sogno di una serata romantica sul lago di Como si è trasformato in una terribile fatalità. Gli investigatori stanno attivamente lavorando per comprendere la dinamica dell'incidente e le cause dell'annegamento. Al momento, ogni ipotesi è considerata, dalle circostanze dell'incidente a scenari più oscuri. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per recuperare il veicolo coinvolto, ma molti dettagli del tragico evento restano ancora da chiarire. L'uomo coinvolto si chiamava Morgan Algeri, 38 anni, di Brembate Sopra, in provincia di Bergamo. Era un pilota di aereo. La donna, Tiziana Tozzo, aveva 45 anni ed era di Cantù. Ora il paese rimane in sospeso, cercando di comprendere le circostanze di questo terribile incidente. Questo evento ha alimentato una crescente preoccupazione e tristezza in tutto il paese. Vogliamo conoscere anche la vostra opinione. Cosa pensate sia accaduto? Fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti su questa triste vicenda.